Esattamente un anno fa Matteo Ricci salutava le assessore Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci per accogliere Camilla Murgia e Luca Pandolfi come nuovi assessori alla crescita e alla solidarietà. 12 mesi dopo il sindaco di Pesaro apre politicamente il 2023 con un altro mini rimpasto di giunta aprendo le porte a Maria Rosa Conti che subentra dai di Morotti come nuovo assessore alla sostenibilità. La Morotti sarà destinata a una società partecipata. La Conti, avvocato e capogruppo consigliare di Europa Verde entra in giunta come risposta politica alla crescita dei verdi sia sul territorio sia all'opposizione del governo Meloni in Parlamento. La Conti erediterà le deleghe della Morotti eccezion fatta per le politiche giovanili che passano a Camilla Murgia. Sembrano diritto ma in realtà non sono così scontati i ringraziamenti che io faccio al sindaco perché da parte sua è una cosa che riconosco non solo come leader di questo partito a livello territoriale ma anche come espressione di tutto il gruppo che mi ha seguito in questo percorso fino ad arrivare appunto a entrare per la prima volta, questo lo voglio sottolineare nella storia della politica pesarese della compagine dei verdi nel governo della città, nella giunta comunale. È un ringraziamento, dicevo, non scontato, nel senso che il passo che ha fatto il sindaco ha dimostrato ancora una volta che è un dirigente politico strategico, lungimirante, come ha intravisto l'importanza di iniziare un percorso con un partito, un movimento come quello del Movimento 5 Stelle con una certa generosità e anche riflessione politica da parte di un dirigente di un partito come quello democratico che deve affrontare un congresso a breve. L'importanza appunto di condividere le tematiche e realmente di creare un'alleanza progressista che porti avanti questo tipo di sensibilità. All'assessorato della Conti sarà delegata una transizione ecologica che è propria del DNA dei Verdi. Ci sarà una ripartenza da temi portati avanti dal precedente assessore ma con uno spostamento di prospettiva. Sicuramente da quello che sto già percependo non ci sarà una discontinuità netta, nel senso che fino ad oggi comunque ci sono stati dei lavori iniziati, portati avanti, parlo per esempio quello sulla comunità solare che è molto importante, ma anche un percorso iniziato con l'assessorato dove io ero presidente appunto nella Commissione del Verde Pubblico che riguarda la strategia degli spazi aperti e cioè quindi la gestione dei parchi, la gestione del verde urbano, l'integrazione, una visione diciamo più integrata e funzionale o meglio polifunzionale di tutto quello che è l'abitato urbano rispetto all'ambiente urbanistico, questa visione nuova appunto della città, quella non più solo di urbs, di mattoni, ma quella di comunità. Credo che non sia un inizio appunto proprio per questo, ma sia sicuramente però un radicale spostamento di divisioni appunto per quanto riguarda i temi ambientali, semplicemente perché i verdi hanno quella che noi chiamiamo appunto idea di ecosistema ambientale, quella di visione non antropocentrica ma biocentrica o ecocentrica che vuol partire appunto dal concetto di sistema appunto di bios e di habitat appunto naturale.